Vasculiti parte prima. Cominciamo con la classificazione delle vasculiti che viene fatta sulla base del diametro dei vasi colpiti, sull'età di comparsa, sui distretti interessati, sulla base degli anticorpi coinvolti, sulla base dell'istologia, sulle condizioni associate, quindi ovviamente patologie eventuali, infiammazioni, infezioni, connettiviti, farmaci eccetera. Quindi ripetendo classificazione in base al diametro, all'età, ai distretti colpiti, gli anticorpi, l'istologia, condizioni associate, anticorpi, istologia, sierologia, diciamo così, e istologia. La suddivisione principale viene ad essere fatta quindi tra le vasculiti primitive e le vasculiti secondarie. Detto questo, nell'ambito delle vasculiti primitive abbiamo le vasculiti dei vasi di grosso calibro e queste sono la arterite a cellule giganti o arterite gigantocellulare di Orton, o quindi l'arterite temporale, che è una patologia granulomatosa. A seguire abbiamo l'arterite di Takayasu, sempre ai vasi di grosso calibro, una vasculite anch'essa granulomatosa, che colpisce pazienti di età inferiore grosso modo ai 40 anni. Quindi nel grosso calibro abbiamo la Orton e la Takayasu. Per i vasi di medio calibro abbiamo la PAN, la poliarterite nodosa, la malattia di Kawasaki, che colpisce prevalentemente l'età infantile. Di fatto è una, la Kawasaki è la cosiddetta sindrome linfonodale mucocutanea, cosiddetta. Quindi i vasi di medio calibro, ripeto, la poliarterite nodosa e la malattia di Kawasaki. Per i vasi di piccolo calibro consideriamo la sindrome di granulomatosi, meglio di Wegener, che è appunto una patologia granulomatosa, la Churk-Strauss, anch'essa granulomatosa, associata ad asma e di periosinofilia, la poliangioite microscopica, con meccanismo non più granulomatoso ma necrotizzante al pari della poliarterite nodosa, la Schoenlein-Enoch, che è caratterizzata da questi depositi DGA importantissimo, da ultimo la malattia di Bessett e la isolata del sistema nervoso centrale. Quindi, vasculiti ai vasi di piccolo calibro, ripeto, la granulomatosi di Wegener, la sindrome di Churk-Strauss, la poliangioite microscopica, la porpora di Schoenlein-Enoch, la malattia di Bessett, la vasculite isolata del sistema nervoso centrale. Detto questo, abbiamo le vasculiti secondarie, che possono essere secondarie a qualunque cosa, quindi di fatto infezioni, connettiviti, farmaci, patologie autoimmuni, neoplasie. Quindi, infezioni, farmaci, patologie autoimmuni, ripeto, neoplasie, infezioni, farmaci, processi autoimmuni, neoplasie. La prevalenza delle vasculiti è del circa lo 0,1%, quindi sono condizioni abbastanza rare, però ovviamente vanno sospettate. Nella fattispecie vanno sospettate quando noi abbiamo un soggetto con fuo, febbre magari non diagnosticata, altrimenti, e sintomi sistemici non altrimenti spiegabili, per esempio artromialgie o artrite e o cefalea. Quindi quando tu hai febbre, artralgie, artrite e cefalea, un quadro sistemico che non riesci a spiegare in nessun modo, allora consideri anche la vasculite. Ricordiamoci che importanti sono anche le manifestazioni cutanee, soprattutto agli arti inferiori. Qui avremo dalla porpora rilevata alla livido reticularis, che però è più tipico di Les, fino alle ulcere cutanee. Quindi, ripeto, porpora rilevata, che è molto frequente nell'ambito delle vasculite, la livido reticularis e, ripeto ancora, le ulcere cutanee. Grande importanza hanno anche la mononeurite e il rapido deterioramento che si viene a instaurare in molti casi di rene, polmone, cuore, infine ischemia, infarti cerebrali, intestinali e così via dicendo. Quindi, ripeto, abbiamo detto ancora febbre, caloponderale, artralgie, cefalea, artriti, artromialgie, soprattutto agli arti inferiori, manifestazioni cutanee come la porpora palpabile, l'ivido reticularis, le ulcere cutanee, da ultimo le mononeurite, deterioramento di rene, polmoni e cuore, infine ischemia, infarti cerebrali o intestinali. Insomma, tutto questo è indicativo di vasculite. Alcuni segni e sintomi possono orientarci verso specifiche malattie. Questo è il caso della Takayasu, che viene fortemente sospettata quando abbiamo soffi vascolari a carico dell'arco sovraortico, iposfigmia, asimmetria di lato dei valori pressori superiori a 10 mm di mercurio. Quindi soffi vascolari, iposfigmia, asimmetria di lato, valori pressori superiori a 10 mm di mercurio. Dal punto di vista laboratoristico, le vasculite vanno indagate sempre con un esame emocromo citometrico, per esempio immagino per vedere anche se c'è un'ipereosinofilia che fa pensare a una Churkestraus, l'elettroforesi delle proteine sieriche, perché tu vuoi valutare magari anche se c'è una crioglobulinemia, VES e PCR che indicano lo stato generale. Poi per indagare il coinvolgimento renale è importante le creatininemia, l'esame delle urine e del sedimento urinario. Importante anche considerando che molte condizioni si associano anche a danno epatico, valutare le transaminasi, la creatinchinasi, il sangue occulto fecale, soprattutto in quelle forme dove ci sono dolori acuti a livello gastrointestinale. Poi molto importante il dosaggio della complementemia è sempre in ambito delle crioglobulinemie del fattore reumatoide e ricordiamoci che gli anticorpi, antinucleo, ovvero sia gli ANA, sono negativi e questo è importantissimo. Dal punto di vista dei reperti strumentali, gli indagini da fare sono sempre le stesse. L'RX del torace, l'attack polmonare, il Doppler sonografico, l'angiorisonanza magnetica, la PET ovviamente per valutare coinvolgimento infiammatorio dei vasi che non possiamo valutare con altre metodiche. Oltre a RX del torace, ripeto, tach polmonare, Doppler, angiorisonanza magnetica e PET, facciamo anche la biopsia. Privilegiati sono appunto la cute, l'arteria temporale, i reni, i polmoni e il nervo surale, il muscolo gastrocnemio. Quindi ripeto, cute, arteria temporale, reni, polmoni, nervo surale, muscolo gastrocnemio. Le indagini di solito fatte su biopsia sono quelle con immunofluorescenza diretta per valutare i depositi autoimmuni. Detto questo, passiamo alla diagnosi. La diagnosi devi innanzitutto sospettarla sulla base dell'anamnesi, ricercando l'epatite, eventuale infezione batterica o virale, solito discorso della crioglobulinemia molto associata per esempio ad HCV. Importante è indagare l'HIV, valutare se ci sono neoplasie che possono dare delle condizioni appunto paraneoplastiche similvasculitiche, farmaci, vaccini, connettiviti sistemiche, quindi vedere se c'è un'associazione. Bisogna anche poi differenziare ovviamente la vasculite da eventuali altre malattie, dalla aterosclerosi e infine dalla sindrome anticorpio antifosfolipidi e dalla tromboangioite obliterante. Quindi ripeto, anamnesi per sospettare coinvolgimento di epatite, per sospettare l'HIV, escludere l'HIV, escludere le neoplasie, escludere di fatto assunzione di farmaci e vaccini come causa di antivasculite, connettiviti, quindi differenziale, ripeto, malattie d'altro genere, aterosclerosi e APS, cioè sindrome anticorpio antifosfolipidi e tromboangioite obliterante. Prognosi e ceni di terapia. Allora la prognosi migliore si ha per le forme prevalentemente cutanee. Importante può essere fare un trattamento anche antivirale o antibatterico se c'è una sottostante causa infettiva. Ricordiamoci che i corticosteroidi vanno utilizzati a dosi che sono superiori per le forme sistemiche rispetto a quelle cutanee e spesso nelle forme sistemiche, oltre ai corticosteroidi ad alte dosi, sono richiesti anche gli immunosoppressori.